Eccoci giunti al quarto itinerario di 14 alla scoperta di Firenze. Oggi ci metteremo sulle tracce dei Medici. Considerate che non esiste una famiglia che rappresenta Firenze e la Toscana più di qualsiasi altra, come quella dei Medici. Hanno governato inizialmente la città, poi l'intera regione. Hanno dato i Natali a tre papi, Leone X, Clemente VII e Leone XI, i due sovrane di Francia, Caterina e Maria dei Medici. Hanno promosso l'arte e la cultura spirituale e scientifica, divenendo uno dei fulcri del Rinascimento. La loro fu una lunga e continua lotta per il potere, svolta più sul piano economico-politico e su quello delle armi. I Medici furono forse l'unica famiglia dell'epoca che riuscì a costruire una dinastia attraverso le arti liberali, poiché nelle loro origini non esiste traccia né di nobiltà né di importanti attitudini militari. Secondo alcune fonti, il ceppo originario dovrebbe provenire dal contatto del Mugello, la zona a nord di Firenze, e il primo antenato di cui si ha notizia è Medico di Potrone, nato intorno al 1046. Potrone, formalmente, la Torre Petrona, è un luogo situato sulla riba sinistra del fiume Sieve, nel comune di Scarperia. Questo casale era compreso tra i feudi della famiglia Ubaldini, cui Carlo Magno aveva conferito nell'801 la signoria del gioioso paese del Mugello, che ne affidarono in seguito la custodia proprio a Medico di Potrone, il capostipite della famiglia Medici. Sapevi che proprio qui, in località alla Torre Petrona, ho il mio studio laboratorio artistico nel Mugello? I discendenti di Medico di Potrone, tra il 200 e il 300, acquisirono una buona giatezza per mezzo delle manifatture laniere, che vissero un vero e proprio boom di richieste. All'epoca di Cosimo il Vecchio, la famiglia possedeva 44 tra case e botteghe, 100 poderi e filiali, e banche sparse per il mondo. Le attività delle prime generazioni riguardarono la mercatura, la tessitura, l'agricoltura e solo sporadicamente l'attività bancaria. I Medici iniziarono la loro ascesa al potere grazie a Giovanni De Bici, che fece una grande fortuna con il banco da lui fondato, il Banco dei Medici. I Medici divennero i banchieri del Papa e finanziarono imprese come la conquista del Ducato di Milano da parte di Francesco Sforza e la vittoria di Edoardo IV d'Inghilterra nella Guerra delle Due Rose. Vi consiglio di cominciare visitando il quartiere Medicio, partendo da Palazzo Medici Riccardi, prima residenza della famiglia Medici, commissionata da Cosimo il Vecchio a Michelozzo, dove potete ammirare il Palazzo, la Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli e la Galleria degli Specchi, con gli straordinari affreschi barocchi di Luca Giordano. Poi potete visitare la vicina Basilica di San Lorenzo, dove la lavorarono Brunelleschi e Michelangelo, che ospita importanti capolavori di Donatello, del Verrocchio, del Bronzino, del Rosso Fiorentino, oltretutto il luogo di sepoltura del Capostipite dei Medici Giovanni Di Bici, nella stupenda Sacristia Vecchia, capolavoro rinascimentale del Brunelleschi. Proprio nella crociera della chiesa trovò sepoltura anche Cosimo il Vecchio, sepolto nel pilastro di sostegno, nell'incrocio tra Navate e Transetto, da sempre luogo di sepoltura dei Santi Martini nelle chiese e non dei personaggi politici e civili. I Medici, quando salirono al governo, si trasferirono nel Palazzo della Signoria, chiamato in origine Palazzo dei Priori. Divene nel XV Palazzo della Signoria, nel 1540 Palazzo Ducale, quando il Duca Cosimo I dei Medici ne fece la sua residenza trasferendosi da Palazzo Medici. Infine, il nome di Palazzo Vecchio lo assunse nel 1565, quando la corte del Duca Cosimo si spostò nel nuovo Palazzo Pitti, nella zona d'Oltrarno. Da qui un collegamento sopraelevato, unisce due palazzi attraverso il famoso corridoio vasariano. Accanto a Palazzo Vecchio sorsero gli uffici per l'amministrazione e il governo della città. La visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze vi permetterà di visitare uno dei più importanti musei italiani. Conosciuto in tutto il mondo, l'edificio un tempo sede degli uffici del governo fiorentino, adesso ospita una grandiosa raccolta di opere inestimabili derivanti principalmente dalle collezioni proprio dei medici, che nel corso del tempo si sono arricchite con lasciti, scambi e donazioni. Molte sono inoltre opere religiose derivate da soppressioni di monasteri e conventi tra il XVIII e XIX secolo. Divisa in varie sale, allestita per scuole regionali e stili in ordine cronologico, la Galleria degli Uffizi mostra un' esposizione di opere che partono dal XII secolo e giungono fino al XVIII, toccando il culmine con la superba collezione di opere del Rinascimento. Nelle sale troviamo infatti alcuni dei più grandi capolavori, realizzati da artisti che vanno da Cimabue a Caravaggio, passando per Giotto, Simone Martini, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Mantegna, Tiziano, Parmigianino, Dürer, Rubens, Rembrandt, Canaletto, solo per Cisana alcuni. Di grande valore sono anche le collezioni di disegni e stampe, oltre a quella di statuaria antica. Gli Uffizi sono inoltre il museo più densamente visitato del mondo, se confrontiamo numero di visitatori per superficie espositiva. Il potere mediceo durò quasi ininterrotto, tranne qualche periodo di breve durata, dal 1434 con la signoria cittadina di Cosimo il Vecchio, fino al 1737 con la morte senza eredi del gran duca Gian Gastone dei Medici, ultimo della dinastia. Se abbiamo tutto questo patrimonio, lo dobbiamo alla sorella di Gian Gastone, Anna Maria Luisa dei Medici, ultimo effettivo membro legittimo terramo granducale, la quale stipulò il celebre patto di famiglia con gli Asburgo Lorena, in cui lasciava per testamento l'immenso patrimonio artistico e culturale alla città di Firenze. L'accordo prevedeva che i nuovi successori non potessero spostare, o come scrisse lei, levare fuori della capitale dello stato del granducato gallerie, quadri, statue, biblioteche, gioie e altre cose preziose della successione del serenissimo granduca, affinché esse rimanessero per l'ornamento dello stato, per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri. Vi aspetto al prossimo itinerario artistico su Firenze. Ciao ciao! 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 Ciao!